ciao amici di ser gadget benvenuti ad un altro incontro con la tecnologia in particolare con uno dei migliori prodotti in circolazione in questo momento a livello di smartphone ovvero huawei p9 plus o plus chiamate un po come volete come sapete questa è la versione enhanced come dicono quelli bravi cioè vuol dire ancora più sofisticata e migliorata del p9 che abbiamo già incontrato a più riprese devo dire che sono quasi dieci giorni che ho questo smartphone per le mani mi sono preso un po di tempo per verificare bene il funzionamento e soprattutto per capire bene le differenze rispetto al modello più piccolo ma entriamo direttamente proprio nel dettaglio allora rispetto al p9 più classico standard chiamiamolo il plus alla caratteristica o plus alla caratteristica di avere un display da 5,5 pollici anche in questo caso full hd huawei ha scelto di mantenere questo tipo di definizione credo in favore anche di un miglior consumo ma la differenza fondamentale è che questo è un display super amoled peraltro con un ottimo razio tra la dimensione del display con la superficie completa del telefono che è del 72,7% il display non ha una densità di pixel esagerata perché essendo full hd ha 401 pixel per pollice ovviamente adesso ci sono degli smartphone con una densità di pixel di gran lunga superiore in circolazione un lato pulitissimo un cassettino quello solito da aprire con il piripacchio lom cioè quel cazzillo che quando vi serve non c'è mai e siete in giro come dei tossici a cercare uno spillino per riuscire ad aprire la sim quando vi serve perché qui tra l'altro c'è anche lo spazio per l'espansione di memoria la micro sd sulla porta superiore un'altra delle differenze rispetto al modello normale ovvero la porta a infrarossi per cambiare canale nel vostro bar preferito per far incazzare un po le persone durante il calcio di rigore della finale di champions league e poi il controllo del volume qui sul lato e il pulsante di accensione sulla parte inferiore altoparlante ma insomma poi su questo torniamo dopo perché in realtà gli altoparlanti sono due e poi anche l'attacco usb type c e l'attacco per le cuffie ovviamente anche il microfono sul retro il sensore di impronta digitale a me in questa posizione piace molto so che questa è una cosa di battuta e chi lo va davanti chi lo vuole dietro chi lo vuole di fianco chi non lo vuole proprio a me qua piace perché essenzialmente è una posizione naturale no impugnando il telefono capita proprio quasi sistematicamente di mettere comunque il dito in questa posizione quindi molto comodo peraltro che si può usare anche come una sorta di touchpad se volete se lo attivate con alcune funzionalità anche supplementari e poi sul retro la fotocamera lo sapete che questa è una fotocamera doppia da 12 megapixel con un'apertura molto interessante no un'apertura 2.2 con una focale da 27 mm peraltro questo è un'operazione co-engineered sappiamo che su questo c'è stata insomma una discreta discussione con leica il che vuol dire che l'ingegnerizzazione non la realizzazione di questi sistema di lenti è stata realizzata in collaborazione con leica poi in realtà è stata sun optics in cina a realizzare il tutto secondo l'indicazione ovviamente ricevuta da leica sul fronte invece una fotocamera da 8 megapixel l'apertura 1.9 con l'autofocus con la possibilità di girare addirittura video in full hd vi dico che l'impressione che i video frontali siano quasi migliori di quelli posteriori però questa è un'impressione del tutto personale c'è da completare anche la parte delle specifiche oltre a led a due toni c'è anche un sensore per l'autofocus laser che è un'altra delle differenze tra il modello normale e il plus e poi la regina delle differenze o una delle differenze insomma da sottolineare tra i due telefoni è anche il fatto che ci sia il press touch così come lo chiama huawei prima o poi le aziende riusciranno a mettersi d'accordo su un nome da dare a questa funzionalità perché ognuna di loro ormai usa un nome 3d touch press touch force touch cioè insomma ognuna ha un modo per definirlo tutto sommato insomma è quella roba che se schiacciate forte su un'icona compare un menu contestuale e che dal mio punto di vista allo stato attuale delle cose su android non serve a niente perché vedete se schiaccio su facebook non serve a niente non succede niente se schiaccio su twitter non succede niente se schiaccio su feedly non succede niente se schiaccio su whatsapp non succede niente succede solo su quelle che sono le applicazioni native di huawei che altro che altro dire allora huawei con questo telefono che tutto sommato anche un peso per i 5,5 pollici per i materiali di cui è fatto un peso piuttosto contenuto 162 grammi nelle dimensioni sono di 152 e virgola 3 millimetri di 75,3 millimetri in larghezza e 7 millimetri di spessore che tutto sommato è veramente contenuto rispetto a molti altri prodotti che sono in circolazione soprattutto per quello che questo telefono offre perché da notare anche il fatto che come il p9 normale non c'è alcuna sporgenza della fotocamera qui sulla retro vi faccio però notare una cosa a me quello che non piace di huawei p9 proprio lo dico chiaramente è il materiale materiale lucido come potete vedere per due ragioni a perché è una specie di cartina che ammazza le mosche per le impronte cioè basta sfiorare il telefono e l'impronta è lì e bisogna andare a usare olio di gomito per toglierla e poi perché rende questo telefono più sdrucciolevole questa secondo me è una cosa cioè nel senso che l'effetto saponetta con questo materiale è sempre dietro l'angolo un po anche per l'ergonomia di questo telefono che ha con questi angoli così netti no cioè non ha delle parti morbide ma angoli piuttosto netti quindi diventa un po più difficile da impugnare ma il telefono come va allora forse una cosa l'avete vista qualche secondo fa quando ho tentato in pratica di schiacciare di attivare le cose insomma questa è la personalizzazione della home page che potete utilizzare potete ad esempio cambiare anche il tipo di diciamo passaggio di effetto di slide tra una parte e l'altra del menu perché sapete che huawei è una di quelle aziende tra l'altro la prima forse nel mondo android poi seguita da tanti altri produttori che non ha un cassettino delle applicazioni no quindi avete direttamente tutte le icone e tutte le applicazioni sullo stesso livello qui c'è una parte di personalizzazione per cui potete addirittura decidere anche il layout della vostra home page vi ricordo che cambiarlo non è esattamente la cosa più semplice perché per cambiarlo non basta installarne uno nuovo perché non ci sarà il solito avviso che ricevete quando installate una nuova home page dovete andare nel menu delle impostazioni in app dovete andare in impostazioni avanzate impostazioni predefinite avvio app e qui decidere quale launch utilizzare sappiate che se non fate tutti questi passaggi non cambierà il vostro launcher peraltro ci sono delle cose anche bizzarre piuttosto incomprensibili non è cambiata l'icona di instagram con l'aggiornamento delle app è successo sulle altre applicazioni del mondo mondo di instagram quindi ad esempio vedete con boomerang l'icona è cambiata forse da qualche parte ho anche layout eccolo qua vedete con layout l'icona è cambiata e per i misteri misteriosi della sistema home di huawei invece non è cambiata da questa parte ma come funziona il telefono allora noi siamo collegati in questo momento in 4g con la rete di vodafone vediamo subito qual è il tipo di funzionamento che ha questo processore il kirin 950 sto utilizzando come browser chrome vedete che insomma il funzionamento è discretamente discreto c'è ogni tanto qualche saltellino sarà il processore sarà il browser lo scopriremo solo vivendo sarà forse anche il fatto che non ancora è completato di caricare la pagina grazie ad alcuni inserimenti pubblicitari ma andiamo sul corriere così vediamo anche con il corriere magari chiedendo direttamente il sito desktop e vedendo un po come si comporta adesso attendiamo sempre che si completi la barra di caricamento così abbiamo un'esperienza che è più completa no vedete che tutto sommato ogni tanto io però qui non so mai quale qual è il limite del processore qual è il limite del del browser però ecco vedete adesso che la pagina è ben caricata insomma tutto sommato si qualche ogni tanto qualche scattino ma riuscirete no sopravvivere a questo genere di di disastro da parte del telefono però in realtà insomma è discretamente veloce la fotocamera questa è interessante da vedere perché vi ricordate quanto basica e quanto simile a quella di ios fosse la fotocamera in passato di huawei forse troppo simile invece adesso abbiamo cambiato notevolmente la situazione no intanto qui ci sono i comandi con cui regolate in versione pro tutti quelli che sono i sistemi del telefono e io devo dire che funziona veramente bene ho provato a più riprese delle degli scatti con la funzione pro e le foto sono veramente ottimali e poi sapete che con il menu che avete a disposizione potete scegliere di fare le foto in bianco e nero e qualcuno di voi dice sì però io potrei farle con i filtri non è la stessa cosa il nativo bianco e nero ha una definizione dei colori e del nero in particolare proprio completamente diversi e devo dire che in questo huawei p9 è veramente fantastico una segnalazione quando fate le foto in hdr ecco forse un po lento è un po lento negli scatti mi è capitato in alcuni casi che adesso qui lo fa abbastanza bene vorrei farvi notare quanto diverse siano il colore della scrivania e quello della fotoripresa ma in questo insomma ormai quasi tutti i telefoni ci danno delle cose dei colori che non sono proprio al 100 per cento super fedeli scusate torno un attimo qui alla fotocamera però ecco avete una miriade di possibilità di controllo è molto più avanzato rispetto a quello che succedeva in passato è evidente che sulla fotocamera si sia fatto un lavoro notevole questo vale anche per la fotocamera frontale non vi faccio vedere adesso l'effetto della fotocamera frontale perché vi spaventerei vedendomi con la mia faccia del mattino con la fotocamera potete applicare anche una serie di filtri che sono a vostra disposizione in qualunque momento faccio una verifica ecco anche con il p9 plus come con il p9 normale accendere la fotocamera tenerla accesa a lungo usarla a lungo girare video attiva comunque un discreto surriscaldamento del processore il kirin 955 che bisogna dire è veramente una bomba atomica perché unisce due quad core uno da 2,5 giga un altro da 1,8 giga e qualunque cosa voi facciate con il telefono a parte schiacciare in questo momento ecco questa è una cosa che devo segnalarvi mi è venuto in mente adesso parlando che a volte vedete cosa è successo anche adesso è come se il touch rispondesse male non sempre non succede sempre ma a volte come questa sensazione di un touch screen che non è al 100 per cento ricettivo vediamo che cos'altro c'è qui dentro per quanto riguarda la dotazione del telefono una torce il solito effetto a specchio vedete il comando smart per usare il vostro smartphone come sistema di controllo le app più popolari sono infilate dentro due o tre cosine che insomma tutto sommato vorrei chiedere quanto popolare veramente l'applicazione ve la faccio rivedere iam che ha provato a proporsi come l'instagram di windows phone fallendo ovviamente dall'impresa adesso ci riprova da entrando dalla finestra grazie a huawei per quanto riguarda i temi io non li ho ancora utilizzati perché in questi giorni propendo per utilizzare il p9 con la dimensione standard per quanto riguarda i temi c'è una buona disponibilità di temi devo dire insomma che non è una di quelle funzioni che a me personalmente fanno impazzire però insomma ce l'avete interessante invece la gestione del telefono che vi dà la possibilità di fare una verifica di quello che è lo stato di salute del vostro telefono di fare un controllo su quello che voi potete fare per ottimizzare il sistema no vedete quando utilizzate questa voce lui dice cosa potete fare di pulizia interna potete pulire la cache potete eliminare i pacchetti delle app che sono inutili qua vi chiede a volte anche le app proprio qui vi chiede di pulire ad esempio il contenuto delle app che non sono necessarie fate attenzione perché in alcuni casi potrebbe cancellarvi dei dati di navigazione in particolare con chrome quindi comunque rendere un po meno fluido poi l'utilizzo del telefono successivamente a questa operazione perché alcune cose ripartono da capo come se il telefono fosse nuovo la parte telefonica la parte telefonica è buona la ricezione secondo me di huawei p9 e p9 plus è veramente ottima io lo verifico in posti come questo da cui vi parlo dove il segnale non è sempre fantastico in questo momento io sto usando questo oggetto con una sim di vodafone al suo interno nel caso invece di utilizzo con una sim di 3 spesso insomma c'è qualche difficoltà per quanto riguarda l'ascolto insomma della scusate per la ricezione e invece con huawei p9 siete veramente al massimo allora io come al solito ho fatto refresh alcune applicazioni adesso se non smettono di mandarmi notifiche di twitter esco di testa mi viene un attacco di un travaso di nervosismo che la metà basta però insomma vi mostro intanto anche l'audio perché ecco l'audio bilanciato con un altoparlante frontale è uno sulla parte bassa quello sulla parte frontale di quella sua parte frontale per le frequenze medio alte e quello sulla parte bassa invece per le basse allora vi faccio sentire meno possibile l'audio perché sennò i censori di youtube tagliano il video pensando che abbiamo violato il copyright però vi dico l'audio è veramente ottimo mi spingo a dirvi che è un volume addirittura superiore a quello del boom sound di HTC e anche dal punto di vista della qualità del suono non ci allontaniamo molto dal boom sound di HTC che tra l'altro ha adottato lo stesso tipo di soluzione quindi un altoparlante in alto e uno nella parte inferiore che cos'altro vi posso raccontare? l'autonomia ecco l'autonomia è infinita 3400 mAh di batteria se riuscita ad arrivare a sera senza batteria vuol dire che vi devono prendere, vi devono ricoverare, vi devono togliere questa ansia di utilizzare lo smartphone perché con 3400 mAh di batteria uniti a questo display, a questo processore è praticamente impossibile arrivare a sera senza un residuo di autonomia se voi, ripeto, riuscite a scaricare completamente questo telefono in un giorno vuol dire che dovete uscire e farvi una vita perché non avete degli amici è una cosa matematica allora, insomma, un telefono secondo me è bello, bellissimo dal punto di vista tecnico per le dimensioni io continuo ad apprezzare la versione da 5,2 pollici però insomma, diciamo, pollice su assolutamente per Huawei P9 Plus